Oh, buongiorno, buonasera ragazzi. Siamo tornati su Detroit e ora conteniamo la nostra storia. Non voglio andare al desktop. Giorni dopo. Ok. È diventato Persona 5. Dobbiamo prendere il treno. Trova Jericho. Cos'è? Quello di Seven Deadly Sins? Controlla simbolo. Ok. Cerca i graffiti. I porno? Cerchiamo i porno. Eccolo qua. È lui. Non ho qualche spicciolo comunque. È qua. È questo! Te l'hai premuto RT? Per decifrare i graffiti. Li ho decifrati. Vabbè. Vediamo cosa vuole lui. Niente. Niente. Mi fa solo vedere i graffiti. Eh, vabbè. Allora. No, ho sbagliato. Allora, qua. Ah, vedete? Ah, vedete? Gerico. Gerico. Sì, avevo ragione che era Gerico il nome. Qua cosa c'è? Un telefono? Eh no! Altra lore! Allora, questa è cara. Macchina in fuga. Macchina in fuga semina il panico a Camden. Con chilometri e chilometri di natura incontaminata, il Canada è la Terra della Libertà. Visita di stato del presidente Warren nel Regno Unito. Androide in fuga. Macchina in fuga semina il panico a Camden. Residenti del quartiere di Camden hanno assistito a un avvecente inseguimento di polizia, con tanto di blocchi stradali e decine di pattuglie all'inseguimento di un fuggitivo. Ma non si tratta di un fuggitivo qualunque. Il sospettato è un androide. Il modello AX400 pare soffra di un malfunzionamento estremamente raro e, per fuggire dalla polizia, ha perfino attraversato un tratto di autostrada molto trafficato. Vero? Le dichiarazioni dei testimoni oculari sono inconcludenti e, senza una dichiarazione ufficiale, è impossibile stabilire cosa sia accaduto realmente. I giornali locali stanno comunque analizzando il caso in questo preciso momento. La CyberLife non ha rilasciato commenti e le varie teorie su quanto sia successo non tarderanno a emergere. Ma va? Ho scoperto adesso che puoi cambiare... Pensavo fosse... Vai avanti quello in alto a destra, invece è cambi articolo della rivista. No, mi sono perso un sacco di articoli così... Fuck. Eh, vabbè. Assolutamente androide esplorerà Io, che è un satellite di Giove. La NASA manda equipaggio androide nello spazio. Hacker violano i pannelli solari in cambio di un riscatto. La NASA ha annunciato l'invio di 5 squadre di androide per l'esplorazione di Io, satellite di Giove. Il viaggio durerà... Il viaggio durerà 3 anni allo scopo di recuperare nuove informazioni sulla nascita del sistema solare. Non si tratta dei primi androidi nello spazio, ma per la prima volta non ci sono membri umani nell'equipaggio. La dimostrazione del fatto è che gli androidi sono affidabili e autosufficienti. Gli androidi sono fondamentali per la conquista dello spazio, ha dichiarato Michael... Gli androidi sono fondamentali per la conquista dello spazio, ha dichiarato Michael Shelley, direttore della NASA. Le radiazioni cosmiche distruggono il DNA umano e gli effetti della permanenza dello spazio sull'uomo sono noti. Gli androidi non hanno questi problemi. La NASA ha confermato l'assenza del viaggio di ritorno. Gli androidi lavoreranno su io per mesi finché non verranno distrutti dalle condizioni estreme del satellite. E i dati come li mandano? Scusa. Va bene. Lesgo, tu gerico... Lesgo, trova i graffiti. Ma sei stupido? Ma... Non capisco. Il graffito è quello, cos'hai? Mi devo avvicinare? Forse non mi sono avvicinato abbastanza. È questo il graffito. Non me lo indica neanche tra le cose da trovare. O devo esserci vicino? Cosa devo fare? Aaaaaaah... Ma vai a cagare, va. Vai a cagare. Dai. Vabbè. Prossimo. Ok. Beh, c'è lo stesso simbolo, comunque. Ah, questo qua... Ha tipo un leone. Ok. Let's go to Leon. Andiamo a cercare Leonardo. Android only. Ah, volevo prendere l'altra via. Invece... Devo per forza prendere... È vero! Mescolati tra... Stavo per... Gioco mi predice, è un veggente come me. Stavo per dire... Adesso prendo l'altra via, così mi mescolo tra gli umani. E infatti è quello che devo fare. Effettivamente adesso è diventato come... Blade Runner. Che senza il tondino in testa... A quanto pare gli androidi non si riconoscono. Dagli esseri umani. Questo cos'è? È un tipo? Grazie della risposta, voglio dire. Eccolo qua, il leone. Trovato... Ah, ce ne sono due qua. Eccolo qua. Let's go, prossimo. C'è una stella viola. Ok, quindi è un Joestar. C'è un drone. Sta là. Questa bambina gira dall'inizio comunque. Sempre lei? O almeno il vestito è sempre quello. Magari tipo il vestito che va più di moda. In questo momento. Allora, esploriamo. Qua praticamente ho tutta la città da esplorare. È un casino. Ok, però ti blocca. Ah, non puoi attraversare se non sulle strisce. Incredibile. Non puoi fare il bastardo. Ma che poi questo simbolo dove l'abbiamo trovato non l'ho mica capito, sapete? Ah, qua c'è una tipa incredibile hip-hop che non c'entra nulla. Vabbè, andiamo avanti. Non è vero. Eh, fake news. Adesso gli slogo la testa. Sono io l'android di Carl. Carl, l'hai accoltellato 127 volte il petto? Non è di qua. Scherzavo. Comunque... Non li biasimo quelli della Game Freak. Le foglie sono difficili da fare nei giochi. Cioè, queste sono fatte molto bene. Ma comunque... C'è di meglio. Cioè, rispetto a tutto il resto, tipo il tronco, i muri, eccetera... Le foglie... La vegetazione è difficile da far nei videogiochi, probabilmente. E quindi... E quindi dai, un pochino... Sì. E un pochino... Li perdono, dai. Di qua? Di qua? Yes! Eccolo qua. E via. E l'altro sta... Dove sta? Eccolo qua. Valle d'Aosta. Prossimo indizio. Ok. Dei robottini di cui uno rosso. Non li ho ancora visti, in realtà. Allora vuol dire che la strada è di qua? Allora! È arrivato il pane? Sono quelli? No. Non sono robottini. C'è una rete. Metallica. Eccoli là. Stavo guardando questi, ma cosa sono questi tipo dei pompieri androidi? E' uno. E poi abbiamo il due. E infine c'è il tre che è... Oh, questo è difficile da trovare. Abbassa. Ti posso abbassarmi? E niente, la gente... Ah, scusate. E via. E lia. Ok. Il terzo indizio sta qua. Però devo spostare questo? Esattamente. Eccolo qua. Isis. Ok. Una tipa enorme. Controlliamo nel dubbio, ma non penso ci sia altra roba. Ah, lì c'è uno squalo incredibile. Pazzo, sgravato, supremo, siderurgico. Eccolo qua. Uno è qua. Uno è qua. Nascosto. E l'altro è... Sarà anche questo che devo fare una cosa prima? Esatto, sarà dall'altro lato, tipo. Devo spostare questo? No. Devo salire sulla macchina? No. Ok, questo non me l'aspettavo in realtà. Ebbè, quello che avevo detto io. Andare da questo. Ma dai, ma dai. Eh, continua a sbagliare i tasti. Eeeh, ma carena. Eeeh, ma carena. Gameplay intenso. Tira i bidoni del rudo. Parkour! Eh, vabbè, flexa. Scusa. Che ti devo dire? E l'ultimo è qua. Eccolo qua. Dai, dai, prossimo indizio. C'è scritto Sparkle. Tipo la sigla di Dragon Ball. La vera sigla di Dragon Ball. Ok. Oh no, c'è un quick time event. No, non c'è un quick time event. Non, non sto capendo. Eh, ok. Sarebbe troppo instabile. E fin qui c'ero arrivato in realtà. Ah, di qua. Ma perché non mi compariva prima? Parkour incredibile. Ma è la stessa cosa di prima. Di qua? E via. Due ore per fare sta roba. Esegui. Parkour. Parkour. Ok. Va bene. Ma guarda che ha imparato a correre un pochino adesso. Eh, questo devo cercare. Sparkour. Di sicuro qua non è. Scendiamo. Eccolo qua. Uno. Due. Tre. E ci siamo. Mettivo un parcheggio. Eh, vabbè, lagga. Questo episodio sta durando 60 anni. Ancora precostruisci. Va bene. Allora, se vado di qua. Fa. Wow, 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 wow. Michele, Giacomo. A parte il troppo poco solido. Pericolosissimo. Eh, un'altra opzione sarebbe di qua. Let's go. Let's go. Let's go. E poi. Contro il muro. Let's go. Eh, vabbè, quanto epico. Let's go. Troppo in alto. E allora di qua. Giusto. Perfetto. Dai, dai. Tanto non devo neanche premere. Fa tutto da solo una volta elaborato. Fortissimo quest'uomo. Uomo. Mamma, guarda che non lo rifaccio un'altra volta. Hai filmato tutto? No, non si vede niente qua. Ah, il graffito deve essere qua all'interno. Tipo lui. È messo bene. Allora. Ricordami com'era il graffito. Beh, di qua sicuro si passa. Però prima andiamo di là, allora. Questa penso sia la parte che mi piace meno per ora. Che è molto esplorativa, ma molto lenta. Ah, ma sono stupido. Ma è questo? Ma va, ma... Ce l'avevo qua. Isis. Eccolo qua. Basta. Travi. Eh, saranno di qua. Che ti devo dire? Spostiamo tutte le travi. Spostiamo i bancali. Bancali. Siamo più forti di Icico. Bello che premo tutti i tasti prima di beccare quello giusto. Non imparerò mai i tasti. Allora. Ah, non abbiamo più indizi. Siamo arrivati? Ah, Gerico non è. Pensavo fosse tipo un'agenzia. Una persona. È una nave. È una barca, tipo. Orca miseria che spavento. Non farlo mai più, gioco. Madonna, non ero pronto. È caduto tutto. Eh, grazie. È tutto spavallino che va... Let's go to the boat. E poi esplode tutto. Ah. Come salgo qua? Così? Madonna, che spavento. Ok. Sali, sali. Sei più veloci? Oh, le scale sono terribili in sto gioco. Hai due all'ora. Arrampichiamoci. Ok. E ora... Lag. A caso. Sperando che non crolli nient'altro. Let's go. Quadratura è sempre belle. È acqua, giusto? È acqua. Oh no, l'acqua fa laggare il gioco. Ok. Quanto sta durando sto pezzo? Non sto capendo comunque dove vuole arrivare e cosa vuole fare. Grande Gerico. E soprattutto che cos'è Gerico? Cos'è? Una torcia? Oh, meno male. Nice. Nice, nice. Don't stop, Modore. No, i flashback. Look up, Kizuketai. It's all back. Qua c'è un'altra porta. Chiusa. Palesi. Di qua... C'è un'altra porta. Ficca, se mi arriva un jumpscare spacco il PC. Chiusa, palese. Mi sono già perso comunque. Tutto chiuso, vero? Vabbè, noi le proviamo nel caso. Dobbiamo accendere le luci? Io cosa dobbiamo fare? Sto andando letteralmente a caso. Porca miseria, che spavento. Non va bene, eh? Non abbiamo iniziato bene. È il primo episodio che registro stasera. Io non volevo giocare a un horror, eh? Eh, niente. Adesso ci puoi passare più easy. Ti... Ah, qua c'è una porta. Chiusa. Tutto chiuso. Chi era quel coso? Questa si apre. Con l'agma si apre. Ma poi l'altro dove è finito? Non ho sentito il rumore della porta che si apriva. Dove è sparito quello là? Perché questa cosa mi ricorda Akira? Non so. Rumori inquietanti. Esplora la barca. Eh, quanto lag! Aia! Ma smetti di cadere, Marcus? Adesso c'è qualcuno qua. Quanto ci scommettete? Ecco. Non ne aspettavo così tanta gente, però. Benvenuto a Gerico. Oh no. Ne ho missato solo uno. Assurdo. Non so cosa fosse. Era un... Una scelta. Vabbè, comunque... Ah no, anche qua ho missato. Era un libro che ho missato. Ma dai. Va bene. Questo episodio è durato fin troppo, credo. Quindi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo dove... Probabilmente non vedremo lui perché alternano sempre. Vedremo più avanti se lo stuporano questi qua. Non so, se siamo finiti nelle foglie. Va bene. Salve ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.